Con questo video parleremo della prossima mobilità 2020-2021. Il Ministero convocherà i sindacati già da gennaio 2020 per presentare la Borsa di Ordinanza Ministeriale della Mobilità 2020-2021. Questa ordinanza ministeriale sarà resa pubblica sicuramente nel febbraio 2020, con le date relative alla presentazione delle domande tramite istanze online di tutta la mobilità del comparto scuola. Nel marzo 2020 sarà proprio il mese in cui si potranno presentare le domande di mobilità territoriale o di mobilità professionale. Cioè nel periodo, nella prima decade, fino alla fine del mese 2020, i docenti saranno chiamati a presentare domanda di mobilità, se lo vorranno, volontaria, tramite le istanze online del MIUR. Chi ha un titolo di abilitazione in altra classe di concorso e ha superato l'anno di prova, può anche richiedere la mobilità professionale, cioè o il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo. Detto questo, diciamo che nel periodo poi che va da aprile a maggio, metà aprile a metà maggio, il MIUR, attraverso sempre le istanze online, consegnerà, e nella posta elettronica indicata dal docente che ha fatto domande di trasferimento, presenteranno l'atto di notifica della domanda di mobilità. Molto importante questo atto di notifica perché ratificano il punteggio della domanda di mobilità, che qualora non fosse, diciamo, quello che il docente si aspetta, è possibile entro dieci giorni dall'atto di notifica presentare il reclamo avverso al punteggio che il MIUR ha assegnato. Dopo questo periodo, si arriverà immediatamente dopo, avremo anche i docenti soprannumerari che potranno presentare, e dunque avere anche loro l'atto di notifica, presentare la domanda come soprannumerari in modello cartaceo, la domanda di mobilità in modello cartaceo perché docenti soprannumerari. Una volta espletati anche le notifiche dei docenti soprannumerari, cioè di fatto si apre gli esiti della mobilità, che sono previsti tra la fine di maggio e i primi di giugno per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Verso la metà di giugno per la scuola secondaria di primo grado, e in coda al mese di giugno per la secondaria di secondo grado. Questi sono i tempi, per cui seguiteci ancora, faremo altri video sulla mobilità proprio quando entriamo nella fase dell'ordinanza ministeriale, seguiteci nel nostro sito www.tecniche della scuola, nei nostri canali social, Facebook, Twitter e Instagram, e seguiteci anche nel nostro spazio proprio di YouTube. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.